Buongiorno e benvenuti in questo primo Vlogmas per me non c'è colazione più natalizia di questa panettone o pandoro e cappuccino con cannella oggi vi farò vedere ciò che ho comprato ovviamente da Action di Natalizio e in realtà ammetto che sono acquisti fatti in due momenti diversi inizio con questo set tavola che veniva venduto sfuso è partito tutto dal fatto che mi servivano una ciotola o due per la colazione poi mi sono piaciute talmente tanto che ho pensato fosse un set carino principalmente per la colazione con piattini e ciotoline ho aggiunto queste che erano da tutt'altro scaffale ma secondo me stanno bene tutti insieme non ho visto che una ha una fantasia diversa ma non importa era tanto tempo che volevo delle ciotoline per la macedonia e il gelato e queste sono anche costate pochissimo vorrei abbinarci questo runner bianco con fiocchi di neve e stelline dorati mi piace molto perché è peluscino e morbido candele perché non devono mancare mai che ovviamente non accenderò sono bianche con questi dettagli oro che le rendono molto eleganti e poi questo nastro la mia idea sarebbe al posto di comprare tovaglioni natalizi di arrotolare quelli bianchi facendo un fiocchetto con questo ma poi vi farò vedere in aggiunta questa tovaglia verde di velluto con le stelline dorate ormai saprete se mi seguite da un po che taglierò per cucirne altre cose lo faccio sempre mi piace queste candele a batteria in realtà le vendono con entrambe lo stesso colore nella scatola ma le ho divise con una mia amica a cui servivano di colore diverso e dispari vero molto più finte rispetto alle altre ma molto più sicure da tenere in tavola o su altre superfici e ora passiamo ai decori da usare solo nel periodo natalizio schiaccianoci bello alto noi li adoriamo ma in certi posti hanno dei prezzi e alla fine sono gli stessi mi piace molto perché ha i colori tipici del natale tazze ne ho la passione ultimamente mi piacciono di disegni diversi tra loro al posto che è ad esempio quattro uguali questa è la mia preferita palline miste rosse ma ma Grazie a tutti. L'elfo di Babbo Natale? Ok, non ho 5 anni, ma forse sì. Non voglio rinunciare al mio lato da bambina mai. Ho dovuto farlo quando ero piccola e ora lo voglio recuperare. Miniature per il villaggio di Natale? Che sto facendo? Grazie a tutti. Decori per l'albero. Neve finta sempre per il villaggio. Musica Musica Qualche altro decoro perché quest'anno il nostro albero sarà leggermente diverso da quello dell'anno scorso. Musica Candele in ogni mio haul non possono mancare. Musica Ed ecco il pezzo forte, trenino a batterie. Ve l'ho detto che a Natale rivivo la me bambina, come non l'ho mai fatto prima. Musica Musica Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi auguro delle feste piene di magia. Musica 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 Musica